ciao amici sembra proprio che la colazione sia un tema molto sentito da tantissime persone e siccome in molti mi avete chiesto di fare un nuovo video sulla colazione eccomi qui ecco le vostre domande più frequenti al mattino pochissimo tempo non ho sempre la stessa fame io devo correre fuori prestissimo capisco ci sono tante situazioni complicate e non tutte le mattine sono uguali anche a me capita di non avere tempo per fare la giusta colazione e allora oggi vediamo alcune proposte per una colazione nutriente veloce da fare al volo tra l'altro va bene per tutti non solo per chi lavora ora vediamo cosa fare nel frattempo mettete un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video quando siamo proprio di fretta e abbiamo poco tempo possiamo usare le proteine vegane in polvere ma sei fissata con sta roba vegana guarda le proteine vegane hanno due vantaggi per tutti uno sulla base di proteine vegetali di alta qualità provenienti da piselli canapa riso e semi di girasole così il profilo di aminoacidi è molto ricco e l'assorbimento è immediato due non contengono allergeni più comuni come la soia e il lattosio e così sono adatti a tutti anche i bambini e ai ragazzi in particolare per loro se non hanno voglia di fare colazione basta rifilargli un bel bicchierone di latte vegetale con le proteine così almeno sono nutriti e non vi possono raccontare che gli resta la colazione sullo stomaco quante mamme hanno risolto in questo modo ma torniamo a noi grandi celli e ai vantaggi della colazione proteica per esempio non fa venire fame fino all'ora di pranzo così si evita di mangiare schifezze pieni di zuccheri e grassi industriali o pizzette focaccine piene di colesterolo nel video di oggi vi faccio vedere due gusti gustosissimi banana e caffè io faccio così se proprio il tempo è uguale a zero io prendo uno shaker una tazza di latte vegetale due bei cucchiai di proteine vegane agito bene e me lo bevo al volo se sono ispirata aggiungo un po di polvere di cacao di cannella a volte lo bevo dopo insieme a una barretta food spring mia preferita paleo bar sempre vegana oppure la protein bar di cui ho parlato in questo video quando invece ho un pochino più di tempo un pochino faccio così se ho voglia di frutta di qualcosa di fresco prendo della frutta la taglio a pezzetti e ci verso sopra una cremina fatta con del latte vegetale e le proteine alla banana un po dense se voglia di più carica metto le proteine vegane al caffè direttamente nel latte vegetale e poi mi mangio fiocchi di mais oppure muesli scusa ma non fai prima con un cappuccio e una brioche quando abbiamo poco tempo e comunque in generale la cosa più sbagliata da fare è riempirsi di zucchero bianco dopo il primo picco glicemico che sembra dare energia segue il brusco calo che porta ad avere sonnolenza stanchezza quel senso di stordimento e blocco mentale mancanza di concentrazione molte persone seguendo i miei video hanno finalmente capito che era proprio lo zucchero a causare quel senso di stanchezza hanno cambiato abitudini e sono rinate trovate anche voi la differenza e sappiate mi dire mi raccomando scrivetelo nei commenti tra l'altro lo zucchero bianco nutre la massa grassa mentre invece le proteine nutrono la massa magra come dico sempre al mattino le proteine saziano fanno sentire più sostenuti nutriti e ci portano fino a pranzo senza avere cali e buchi nello stomaco bene con i prodotti di oggi sapete cosa fare con o senza tanto tempo la colazione con le proteine va sempre bene come sempre trovate in descrizione il codice sconto e i link per ordinare i prodotti con il 15 per cento di sconto ottima convenienza e risparmiare fa bene anche alla salute se queste informazioni vi sembrano utili condividete questo video e iscrivetevi al canale così potete seguire tutti i miei consigli e tante altre ricettine per la colazione e per tutti i momenti della giornata e attivate le notifiche così non perdete le novità e le ultime uscite pubblico video tutti i giorni comunque e seguitemi anche sui miei social sulla pagina facebook e sul profilo instagram perché metto tanti consigli e mi potete seguire anche da lì noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao con simona vignali